Ciao a tutti iniziali, siamo qui in un nuovo video. Allora, oggi ho due cose da aprire, mi sono arrivati due pacchi. Un pacco da Sbabam, e sono questi nuovi slime, soft melmito slime, seconda edizione, da creare noi. E poi un altro pacchetto di un'altra cosa che invece ho acquistato. Mi è costata un po', però ne vale veramente la pena. Ed è una Air Dorables prima serie, che ora andiamo subito a vedere. È una rara della prima serie, e ve la faccio subito vedere perché era arrivata un po' di giorni fa, l'avevo tirata fuori, quindi nel pacchetto ci sono rimaste giusto qualche cosina, ma lo sapete, quelle con i capelli tendo a tirarle fuori prima dai pacchetti, perché non posso aspettare, insomma, dopo si rovinano, quindi l'ho tolta, e ve la faccio subito vedere, e poi vediamo gli slime. Allora, nel pacchetto sono rimaste queste cosine qua, che sono, allora, la checklist che vediamo subito. Eccola qua, questa è la versione italiana, quindi di giochi preziosi, e questa è la solita checklist. Eccola qui. Ci sono solo due rare nella serie, che una è Royal Bella, e una è Super Naila. Commentate qui sotto quale, secondo voi, delle due ho preso. E, 3, 2, 1, eccola qua, ho preso Naila, Super Naila, ovviamente. Io adoro, 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 adoro lo spazio, e quindi ho dovuto prenderla. È una... La versione, diciamo, Super Naila è una aliena. Allora, abbiamo qua, impacchettato molto bene, anche il pettinino, che è un fiocchetto rosso. Poi abbiamo i soliti adesivi. Eccoli qua. Il solito cellulare e il solito tassello del puzzle, diciamo. E c'è scritto solo Naila, senza nessuna informazione, perché la versione italiana hanno tolto tutta la parte di scritti in inglese, anziché tradurle. Allora, vi faccio vedere la Super Naila, che è favolosa. Eccola qua. Mamma mia, quanto è bella. Cioè, è una delle più belle proprio che hanno fatto. Se non la più bella, forse. Allora, ho usato questo stand qua, che è della rara della seconda serie. Intanto l'ho messo a lei, perché secondo me le sta meglio. Allora, ha questi occhiali, fantastici, con le saette, veramente spettacolari, trasparenti. E poi, vediamo lei. Allora, ha questa coroncina, con queste gemme fucsia, e qua ha dei tinsel nei capelli. I tinsel sono questi qua, vedete? Questi irrivescenti. E i capelli sono di tre colori diversi. Bianchi, celeste verde acqua, diciamo, e celeste un pochino più scuro. Con questi due boccoli stupendi. Allora, la carnagione è fantastica. Nessuna delle altre ce l'ha così. È un verde acqua veramente bello. E verde acqua e fucsia rosa insieme sono perfetti. Questa poi è l'espressione che preferisco tra tutte quelle delle Air Dorables. Cioè, col sorriso così, senza che si vedano i denti, e che guarda davanti. E quindi, insomma, è la mia espressione preferita. Ha un po' di blush. Il vestito è favoloso. Ha tutte queste cose sempre iridescenti. E anche questo, lucido e rosa pastello. E poi sotto ha il body, che è anche perlato, tra l'altro. È fucsia metallizzato, diciamo. Ecco. Quindi è ancora più bello anche sotto. E poi ha questi stivali trasparenti, con queste stelle, tipo qua. E davanti lilla. Pure l'abbinamento verde acqua lilla, fantastico. Niente, è una delle più belle, senza dubbio. L'ho pagata un pochino, però ne vale la pena, perché è veramente, veramente bella. Le possiamo anche mettere, ovviamente, gli occhiali. E è stupenda anche così. Cioè, bella, bella, bella. Ditemi se piace anche a voi e se la vorreste avere o se l'avete trovata. Magari siete stati fortunati e l'avete anche trovata voi. Adesso, invece, andiamo a vedere gli slime. Allora, eccoli qua. Costano 3,99 euro, se non sbaglio. Dopo andiamo a controllare, ma mi pare di sì. E hanno una valigetta. E all'interno ci sono due slime. Delle cose che troverete che sono o glitter o palline, per farli. E poi due oggettini, tipo un coltellino, cioè in plastica ovviamente, e un dotter. Quindi li potete usare, insomma, per modellarli. E poi ci potete o giocare come una semplice clay, oppure la modellate, la lasciate in forma e prenderà appunto la forma dell'oggetto che farete. Insomma, un po' tipo Fimo che asciuga all'aria. Una sorta di cosa del genere. Allora, eccole qua. Ci sono tantissimi colori. Qua c'è il solito De Pliam che tra poco andremo a vedere. Allora, i colori sono, delle scatoline, sono questi qua. Ovviamente quelli che preferisco sono quelli sul rosa lilla e questo verde acqua qua, che mi piace tantissimo. Però ce l'abbiamo di tutti i colori. E all'interno potete tranquillamente vedere qual è lo slime che vi capita. Basta aprirlo e poi richiuderlo tanto. Sono sigillati. Quindi ora andremo a vedere quali slime ci sono all'interno di ognuno. Allora, questo qua è il De Pliam. Vabbè, ci sono sempre giochini, cose così, insomma, dentro. Non ci stiamo a soffermare troppo. Ci sono anche i fabolosi come pubblicità, ma li abbiamo aperti sul canale. E ecco qua. Allora, iniziamo dalla prima valigetta che ho preso, che è questa rosa. Allora, fatta così. Stavolta non è trasparente come l'altra della scorsa serie, ma è tutta rosa, appunto. Il prezzo è 3,99€ e ovviamente potete usarle per metterci dentro anche degli oggettini. Per esempio, le cose delle LOL, no? O i vestitini delle vostre bambole. Ci entrano benissimo. E anche delle AirDorables, appunto, no? Pettinini, cose così. Qua ci entrano perfettamente. Una volta che avete finito, ovviamente, il vostro slime e si sarà seccato, potete usarli in questo modo. E niente, praticamente si apre, così. E c'è, appunto, all'interno un dotter con punta sottile e punta spessa. E poi c'è un coltellino in plastica, vabbè, non taglia niente, ovviamente, è solo per spalmare. Qua i glitter, qua dentro. Qua c'è una specie di indicazione che ci dice come poter fare le nostre creazioni, tipo il cupcake. Questo qua l'hanno fatto loro. E niente, eccolo qua. Allora, andiamo a vedere... Qua c'è un ripiano, che potete usare come cosa da lavoro, diciamo. E qua abbiamo due fantastici colori, che sono verde acqua e lilla. E dopo penso proprio di andare a usare questi, perché mi piacciono tantissimo questi colori. Quindi, questo è il primo. Ora vi faccio vedere velocemente cosa contengono questi altri. Per esempio, appunto, questo contiene un altro oggettino, che è fatto così. E questo di un altro colore. Qua sempre glitter. E questo di altri colori, vedete? Questo su lilla, sempre stesse cose, stessi oggettini. Però colori diversi di slime. Questo blu, invece, ha le palline. Altri due oggettini, ma di colori diversi. E slime pure di colori diversi, rosso e celeste. Questo qui rosso anche. Ovviamente io non so se poi quelli rossi contengono sempre le stesse cose. Voi per sicurezza potete chiedere all'edicolante di aprire e vedere all'interno magari i colori. Così non prendete lo stesso slime. Ecco, questi oggettini. Ah, questo per esempio è ancora diverso. Vedete? Ha una punta così. Cioè, due punte, insomma, così. E questo è nero e arancione. Poi questo, che ha di nuovo questi oggetti qua. E questi sono gli slime. Questo fucsia, invece, ha questi oggetti qua. E gli slime carinissimi sono lilla, viola, insomma, e rosa. Poi ultimi due. Allora, c'è questo. Questi oggetti e... Questi slime. E ultimo questo. Stessi oggetti simili, diciamo. E questi due slime qua, rosso e giallo. Allora, adesso proviamo a fare qualche... Una creazione, insomma, ci provo. Qua intanto possiamo vedere, appunto, come si fa un marshmallow. Quindi direi di provare a farlo. È abbastanza semplice. Basta fare due serpentine, arrotolarli e poi tagliarli qua con le forbici. Oppure con il coltellino, penso che vi è stato dato. Oppure un lecca-lecca. Oppure un cupcake. E questi, insomma, li trovate qua dentro come tutorial. Quindi direi di provare a fare questi... Questi... Marshmallow. Ovviamente questa clay poi la potete usare anche per metterla all'interno degli slime. E farci degli slime, come volete, insomma. Allora, abbiamo quindi questa clay. Vediamo che consistenza ha. Ma penso sia la stessa delle altre volte. È leggerissima. Veramente super, super leggera. E profuma tantissimo. Buonissima. Allora, come vedete, è molto, molto leggera e molto compatta. E potete usarla, appunto, sia come slime, almeno all'inizio, e poi dopo per farci le vostre creazioni. Veramente stupenda. Vediamo anche quest'altra. E poi, ovviamente, appunto, questi li potete utilizzare per farci delle formine. Perché, vedete, fa proprio delle... Questo qua, il dottero, appunto, fa dei buchini, dei puntini. Molto utile. Questo ha un altro odore, sempre buonissimo. E questo è quello, appunto, lilla. Leggerissimo. Ottima consistenza. Ve lo straconsiglio, se vi piace. Ora provo a fare un marshmallow e vediamo come viene. Allora, ecco qua il primo serpentino. Voglio farlo abbastanza grande. Ok, eccole qua. Basterà fare tipo così e arrotolarli. Eccoli qua. Che carino. E' adorabile. Eccolo qua. E adesso lo vado a tagliare. E ci faccio vari marshmallow. Allora, sì, tagliando con le forbici vengono davvero benissimo. Eccoli. Poi un altro. E l'ultimo. Tagliamo questo pezzo in eccesso. Oh, che carino! Sembrano marshmallow veri. Poi sono pure super soffici. Cioè, sono troppo carini. E quindi poi basterà aggiungere un gancettino qua. E verrà il nostro bel marshmallow. Super profumato. Sa di tipo sapone. Buonissimo. E sono super leggeri. Quindi potete anche portarveli in giro. Troppo carini. Adoro. Piacciono tantissimo. E questo, niente, potete mescolarli e farci un altro colore, ad esempio. E appunto, volendo, potete anche aggiungerci dei glitter. Cosa che io non ho fatto. Non penso per ora di utilizzarli. Magari me li tengo per altre cose. Creazioni in resina. Ora vediamo. Oppure le palline. E niente. Questo è quanto. Io li adoro. Mi piacciono tantissimo. E mi piace che ci sia anche la paligetta. Così potete, insomma, utilizzarla una volta che avete finito il vostro slime per metterci, non so, quello che volete. Anche degli anelli. Quello che volete, insomma. Fatemi sapere se vi piacciono. Io davvero li trovo molto carini. Quindi, ecco qui tutto. Fatemi sapere che ne pensate di questa recensione e di questa apertura. Io adoro, adoro, adoro Super Neila. E mi sono piaciuti un sacco anche questi. Fatemi sapere che ne pensate qui sotto nei commenti. Se vi è piaciuto, come al solito, vi invito a lasciare un pollice in su. e iscrivervi al mio canale. E restate sintonizzati, quindi attivate la campanellina per i prossimi video. E ditemi nei commenti cosa vorreste vedere aperto. Io vi mando un grosso bacio e un salutone. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!